Saluto e ringrazio l'onorevole Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, che nel frattempo ci ha raggiunto. Buonasera, deve essere stata una seduta interessante alla Camera. Nella sua vita precedente da civile, lei è un imprenditore, uno dei pochi imprenditori nel Movimento 5 Stelle. Tutti i suoi colleghi imprenditori nelle associazioni sono stati molto critici con questa legge di bilancio. E adesso che la stiamo vedendo un po' più nettamente definita, vediamo anche che con le imprese non è proprio generosa. Ci sono 5 miliardi in meno per le aziende italiane. Come fa a spiegare la crescita? Innanzitutto, non so se siamo in pochi imprenditori nel Movimento 5 Stelle, non credo, io ne conosco tantissimi all'interno del nostro movimento. Detto questo, io faccio parte non solo della categoria degli imprenditori, ma anche di quelli che hanno grossi sacrifici. Nel senso che io sono nato da zero con la mia azienda, quindi ho vissuto tutta la fase complicata delle aziende, quella in cui si parte e le banche ti chiudono le porte in faccia, non ci sono soldi a fine mese nelle casse delle aziende perché magari la pubblica amministrazione è lenta per pagare gli istanti. Quindi io so proprio cosa significa soffrire per un'azienda e come poi giustamente affrontare tutti i momenti più brutti. Detto questo, io non concordo con il fatto che gli imprenditori in questo momento non siano con noi, anzi è proprio il contrario perché gli imprenditori, e io parlo tutti i giorni con loro, hanno capito che noi, ad esempio, per le start-up, per i nuovi giovani che come me hanno deciso di avviare un percorso, anziché fare la vita dura che ho fatto io nei corridoi delle banche a chiedere i centesimi ai direttori, noi abbiamo comunque creato delle condizioni affinché la Cassa Depositi e Prestiti possa fare delle joint venture con dei fondi privati anche stranieri ed investire direttamente nelle aziende italiane. In che modo questo? Cioè tipo, la Cassa Depositi e Prestiti mette 50 milioni di euro per un'azienda che resta in Italia e il fondo privato ne mette altri 50, quindi raddoppiando gli sforzi che farà la pubblica amministrazione. Quindi questo è tutto per le aziende. Perché questa cosa non viene capita però? Perché l'ufficio parlamentare del bilancio dice che questa manovra in realtà è una manovra recessiva e le tasse alla fine della fiera salgono? Guardi, io la ringrazio di avermi fatto questa domanda. La realtà è questa, è che non viene capita perché noi purtroppo abbiamo parte della comunicazione, purtroppo contro, e abbiamo un'opposizione che fa un'opposizione dicendo delle falsità. E le dico anche il perché. Però scusi, l'altro giorno mi è capitato... La pressione fiscale complessiva salga è un numero... Ma non è vero, guardi, le spiego una cosa. L'altro giorno mi è capitato questo. Parlando nel mio territorio con, non voglio dire che tipo di imprenditore, ma era un imprenditore normale, io ero lì per usare un suo servizio, mi dice ma è vero che avete aumentato le tasse al 42%, perché questo è quello che viene fuori oggi, che noi abbiamo aumentato le tasse al 42%. Ma non è l'opposizione, è l'ufficio parlamentare del bilancio. Sì, ma la realtà però, però raccontiamola bene ai cittadini, perché poi io l'ho spiegato e quando io spiego questa cosa ad un imprenditore, capisce e mi dice cavolo, io non me l'hanno raccontata così. Allora, nel 42% di tasse, nel 42,4% che hanno stimato, lì c'è tutta la tassazione. C'è una media di tassazione che va dal piccolo imprenditore che ha un reddito minimo al massimo imprenditore che paga fino a, che so, al 60%, c'è l'IVA, lì sono tutte le tasse che noi paghiamo, quindi arriva al 42%, però chi magari prima pagava, l'imprenditore che pagava le tasse a 20-25%, non è che gli andiamo a aumentare le tasse all'imprenditore, lì c'è tutto, però vi voglio dire una cosa che è importante, quel 42%, innanzitutto dobbiamo dire che il 2016 era il 42,7%, il 2018 non abbiamo ancora il dato ufficiale, cioè è stato sempre sopra il 42%, noi che cosa abbiamo fatto però con quel 42% là? L'abbiamo rimodulato. Spostato i pesi? No, però se posso questo perché è importante. Come l'abbiamo rimodulato? Perché questo è che i cittadini devono sapere. L'abbiamo rimodulato aumentando le tasse alle società che fatturano miliardi di euro del web, che comunque guadagnano un sacco di soldi, le abbiamo aumentate alle banche, le abbiamo aumentate alle assicurazioni, le abbiamo aumentate alle tasse a questa categoria di aziende e di settori che si possono permettere di pagare un poco in più. Però onorevole, sa che se lei aumenta le tasse alle banche poi queste non comprimono le loro margini, ma si rifanno sui... Non è così, le dico il perché. Le dico il perché. Tipo con le assicurazioni, loro bilanceranno, perché è vero che gli abbiamo aumentato le tasse, però è anche vero che adesso impediremo a tutti quelli che hanno i macchinoni super grossi di pagare l'assicurazione a quattro soldi all'estero e quindi aumentare il fatturato. Però voglio dire anche un'altra cosa. Il 15%, sempre nella rimodulazione, abbiamo messo il 15%, e se ne parla poco di questo, di tassazione, per i fatturati a 65 mila euro. Ma immaginiamo quanti milioni di partite IVE ci sono che pagheranno il 15% di tasse, una tassa unica. Quindi, investimenti per le start-up, riduzione delle tasse, un'altra cosa importantissima che abbiamo fatto per gli imprenditori. Gli investimenti scendono rispetto al 2018. No, un'altra cosa che stavo dicendo è che abbiamo fatto... No, volevo sentire e usare anche l'esperienza di Arditti che forse ha sentito qualcosa che voleva puntualizzare. Cioè, intanto è giusto che l'On. Gubitosa difenda la prima manovra che vota nel suo primo anno di mandato parlamentare ed è anche giusto che lo faccia con l'entusiasmo e la intensità con cui lo abbiamo visto fare ora. E io credo che questo è comunque un patrimonio importante perché bisogna innanzitutto crederci anche per decidere di passare almeno momentaneamente dalla vita d'impresa a quella politica bisogna crederci. Però vorrei anche, visto che lei ha il suo primo anno in Parlamento, che lei non cominciasse con il peggiore difetto dei politici di tutta la storia e cioè dire sempre che è colpa degli altri e che tendenzialmente è colpa dell'opposizione e dei media. Le faccio un esempio. Che di questa manovra i due pilastri noti urbi e torbi sono reddito di cittadinanza e superamento della Fornero dipende esclusivamente dalle scelte che il Movimento 5 Stelle da una parte e la Lega dall'altra hanno fatto. Cioè, i due cavalli di battaglia di questa manovra economica ve li siete scelti da soli, non ve l'ha ordinato il medico di insistere su due strumenti i cui effetti li vedremo negli anni a venire sono di carattere molto diverso rispetto a quelli, diciamo così, dell'interesse nel mondo delle imprese. Glielo dico perché lei ricordava la sua terra di provenienza bellissima. Io le parlo da Lombardo, anche se ormai da tanti anni... Beh, è di Avellino, non lo avevo, le ricordo male. Allora, mi scusi. No, ho finito in un attimo. Il presidente dell'Associazione Industriale della Lombardia, Bonomi, ha usato toni verso il governo che non ricordiamo nella storia dell'Associazione Industriale della Lombardia. E guardi che Bonomi non è un uomo, come posso dire, che lei può mettere per definizione nei nemici giurati del governo. Ma lo dico perché abbiamo tutti bisogno... Di fare un dibattito sereno. Aiutatemi, dato che lei, diciamo... Io non voglio prendere i vizi dei politici, come dice lei, in quanto io sono un imprenditore cittadino che è venuto in Parlamento del cittadino. Anche perché se c'è uno che ha imparato nella vita che ci porta il peso sulle spalle di quello che si fa è l'imprenditore. Come può un imprenditore con le cose che ho detto prima e con una manovra che dà i soldi non alle banche ma direttamente ai cittadini nelle tasche dei cittadini... Onorevole, è questo il problema... Lei ha nominato il reddito di cittadinanza e le pensioni. Il reddito di cittadinanza per un imprenditore non è una misura assistenziale, è una misura che veicolerà le persone nel mondo del lavoro. Perché formerà le persone sui nuovi lavori? Il 50% dei lavori che noi oggi conosciamo... Ci saranno il 50% di lavori nuovi da oggi a 10 anni e il 20% dei lavori che ci sono oggi non ci saranno più. Con il reddito di cittadinanza i soldi che mettiamo formeremo le persone su questi nuovi lavori. Quindi il reddito di cittadinanza... Poi un'altra cosa, lei mi ha nominato le pensioni, no? Perché giustamente il collega giornalista prima diceva come mai le cose non le recepiscono? Perché vengono distorte. Guardi, io le voglio far vedere una cosa. Ha nominato le pensioni. Io non so se di là si riesce a vedere questa cosa. Sì, sì. Guardi che specchietta abbiamo preparato. Noi hanno detto che noi abbiamo aumentato le pensioni. In effetti è una grande falsità. Abbiamo fatto un prospetto... Cioè abbiamo diminuito le pensioni. Sì, sì, no, bene. L'ha detto anche il Presidente del Consiglio oggi. Non so se riesce a... No, l'ha detto il Presidente del Consiglio oggi. Ah, ok. Lei riesce a zoomare. Perché qui abbiamo... È un contributo che sarà quasi impercettibile. Soltanto Manco Lavaro di Moliere si accorgerebbe di qualche euro in meno. Sì, però in effetti la cosa che però dobbiamo sottolineare anche è che se avessimo avuto ancora il vecchio governo noi l'1,1% di aumento delle pensioni lo stiamo... Gli stiamo dando il 97%. Il vecchio governo aveva stabilito il 95%. Quindi qui da questo schema una pensione che l'anno prossimo... Chi prende 1523 e l'anno prossimo con noi prenderà 1539 con il vecchio governo avrebbe preso 1538. Non so se riesce a zoomare. E così abbiamo fatto uno schema su tutte le fasce di pensione dove viene spiegato in maniera precisa che se non fosse stato per il governo del Movimento 5 Stelle le pensioni l'anno prossimo quelle su cui ci accusano che ci dovranno essere dei ribassi saranno invece aumentate di poco. Però parliamo sempre di un euro o due euro. Lei non se la deve prendere troppo? Perché se facciamo con l'aiuto mio e Marco l'elenco delle accuse mosse dai suoi colleghi diciamo così per trasferimento ideale nella passata legislatura fatte ai governi in carica e poi le andiamo a verificare nella loro... Vediamo che sono state dette che è stata detta la qualunque. Questo io lo dico non perché io penso che questo specchietto non corrisponda a verità. Io glielo lascio perché corrisponde alla realtà... Dopodiché lei sa anche che tra le misure che nelle ultime ore nell'accordo con Bruxelles sono state messe in campo dall'Italia che aveva bisogno di tenere conto di un equilibrio europeo del tutto comprensibilmente aveva bisogno di tenerne conto perché non si può stare in una casa comune ignorandone le regole. Quindi il governo italiano si è battuto. Io non amo per esempio Marco tutti quelli che accusano il governo di essersi fatto dettare la legge di bilancio dall'Europa. È chiaro che un paese con un grande debito pubblico è più in difficoltà in una trattativa come quella e le autorità italiane hanno fatto più o meno quello che si poteva fare. Però... E ho una battuta sulla velocissima. La contribuzione italiana al bilancio europeo aumenta con questa legge di bilancio. E anche Marco è vero è vero che il governo ha dovuto mettere un ritocco alla indicizzazione dentro lo schema di rimettere i numeri a posto in una difficile trattativa europea. Io dico che ci sta perché voglio dire fa parte delle complicate... È stato un grande successo questa trattativa e ora l'unica cosa che mi auguro a breve... Che cosa? Non è un grande successo perché volevano... Avete abbassato di mezzo punto il deficit nominale soprattutto avete annullato il deficit strutturale e l'avete lasciato invariato come voleva l'Unione Europea come da regole europee non è che come voleva l'Unione Europea come da regole europee fin dall'inizio. In che cosa avete spuntato? Allora noi per quanto questa cosa la si voglia raccontare sul 2.4 Vi siete soprattutto impiccati mi consenta di usare questa parola non per il prossimo anno ma per il biennio successivo con delle clausole di salvaguardia che sono quasi il doppio di quelle che terminate quest'anno Avete idea di che legge di bilancio dovete scrivere tra dieci mesi? Che 20 miliardi se ne vanno soltanto per non fare niente per evitare che aumenti l'IVA? Allora ma non è così allora innanzitutto noi non abbiamo mai ragionato sull'importo noi avevamo delle cose che volevamo fare per i cittadini e tra le cose che volevamo fare i cittadini volevamo fare il reddito di cittadinanza è vero solo una battuta si ricordi che 2,4 e il balcone è un'iniziativa tutta del movimento quindi reddito di cittadinanza aumento delle pensioni minime soldi per le start up soldi per le aziende abbiamo dato investimenti con una riduzione dell'IRES che va dal 25 al 15% perché investe su nuovi macchinari e che pida posti di lavoro siamo riusciti a fare le cose che volevamo poi se non l'abbiamo fatto col 2,4 l'abbiamo fatto col 2 per noi va bene uguale noi erano queste cose che non ci volevano fare i cittadini devono sapere che noi dovevamo se fosse stato per l'Europa arrivare a un 1,6 se non addirittura un 1,4 e non fare niente stare con le mani legate noi abbiamo festeggiato e io festeggio ancora perché abbiamo io posso andare nei miei territori a mettere la faccia perché tutto quello che ho detto in campagna elettorale che dicevano che erano cose impossibili le abbiamo fatti il reddito di cittadinanza appena 7-8 mesi fa mi dicevano che era una bugia l'aumento delle pensioni mi dicevano che era una bugia gli investimenti vediamolo prima però vediamolo fatto perché poi sarà complicato guardi però io le posso dire una cosa l'abbiamo fatto 5 minuti fa cioè come noi votiamo è fatto e lì non è che possiamo non farlo più è lì questo certo tra le cose impossibili di questa legge di bilancio ci sono anche micromisure francamente così dubbie o poco comprensibili se io dico che ci sono 2 milioni di euro per il catastro della frutta la gente a casa si chiede che roba è se faccio notare che per il fondo cibo ai poveri c'è la metà della cifra cioè un milione la gente solleva un sopracciglio quando dico che i premi i premi per il personale della direzione antimafia per il 2019 sono 770 mila euro e i premi per il personale del ministero dell'interno sono 7 milioni oppure per il personale dell'agenzia delle entrate sono 8 milioni all'anno cioè è curioso sono quelle che sono state chiamate mancette o micromancette io ringrazio il nostro tempo è scaduto grazie onorevole tanto la rinvito perché poi vogliamo vedermi lei dice l'abbiamo votato e quindi la facciamo vediamo grazie onorevole Gubitosa grazie Roberto sarà un lungo 2019 2019 grazie a tutti